alla chiesa nascente Gesù dona la sua madre Maria ecco tua madre dice a Giovanni il suo discepolo amato e come tale ella coopera all'azione salvifica del figlio suo redentore del mondo nella prima comunità ecclesiale se gli apostoli vanno per il mondo a predicare Maria con le altre donne rimane chiusa nella città di Gerusalemme si dedica alla preghiera e al servizio la preghiera di Maria e lode e ringraziamento e supplica il figlio suo prega per rimanere con i suoi figli che hanno bisogno di conforto consiglio sostegno e la preghiera della madre che vuol continuare l'azione salvifica del figlio e in questa situazione vede Maria dobbiamo vedere Maria che prega incessantemente a volte anche noi pregando abbiamo la sensazione che Dio non ci ascolta che Dio si è dimenticato di noi eppure vedete il profeta Isaia ci dice ci riporta un pensiero di Dio mentre ancora stanno parlando con me io già li ho ascoltati e già ho pensato di aiutarli Dio ascolta sempre ed esaudisce non tanto secondo la volontà di chi prega quanto secondo la necessità dell'orante cioè in vista della sua salvezza c'è un'espressione di padre Pio molto bella lui con molta sincerità e schiettezza dice ho recitato la novena della Madonna di Pompei per 35 anni poi mi sono accorto che la Madonna quella grazia proprio non me la voleva concedere e non l'ho recitata più il frate che ascoltava queste parole domanda padre ma lei che preghiera che grazia meglio chiedeva al Signore e alla Madonna chiedeva la grazia di morire ecco poteva mai la Madonna e Gesù potevano mai far morire padre Pio saremmo rimasto senza e quindi magari avrebbero a consentire un desiderio di padre Pio che aveva paura del peccato mortale e quindi voleva morire ma avrebbe creato un danno a noi quindi il Signore Dio ascolta sempre le nostre preghiere ma le interizza sempre al nostro vero bene quella della salvezza la preghiera sofferta nel Gettisemene Gesù fa l'esperienza della preghiera sofferta anche noi nella preghiera lottiamo affinché il Signore allontani la croce e ci dia la sicurezza e Dio ci ci dà la salvezza padre Pio suggerisce quanto la mente è incapace di elevarsi nella preghiera allora è il corpo che deve pregare stare in chiesa davanti al Santissimo anche se stiamo a bocca chiusa è il nostro corpo che prega cioè noi guardiamo il tabernacolo e Gesù dal tabernacolo guarda noi e questa è la preghiera dell'intimità di due cuori che si amano